un saluto a tutti cari amici di youtube adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea a rio branco da che in brasile c'era un ragazzo di 27 anni chiamato bruno borghese di buona famiglia ovvero che non avevano mai avuto nessuna discussione grave con nessuno non avevano nemici non avevano persone che li odiavano erano anche ricchi erano abbastanza ricchi sia il padre che la madre lavoravano avevano doppio stipendio sia dalla parte del padre che dalla parte della madre lui era uno studente di psicologia aveva 27 anni ed era un appassionato di extraterrestri e di ufo era un appassionato di esobiologia era convinto che esistevano altre forme di vita su altri pianeti e anche su satelliti ed era anche un fan sfegatato di giordano bruno dato che si era fatto fare una statua grandezza naturale di questo filosofo italiano e anche monaco dominicano sappiamo che giordano bruno anche lui era convinto che esistono gli extraterrestri e che la terra girava attorno al sole non il contrario quindi si era fatto costruire questa statua molto costosa sotto casa sua in rio brango sotto c'erano dei simboli esoterici lo stesso bruno borges ricordiamo che giordano bruno era stato ucciso a campo dei fiori a roma nel 1600 durante l'inquisizione mentre per bruno borges dentro casa sua tutte le pareti erano imbrattate di di un alfabeto criptato si dice che bruno borges faceva parte del gruppo cicada 3303 si dice che lui aveva fatto 14 manoscritti 14 diari segreti chiamiamoli così tutto in criptografia con simboli criptati con un alfabeto abbastanza particolare di cui aveva molto da nascondere si dice che bruno borges scomparve tutto ad un tratto dopo cena infatti l'ultima volta che era stato avvistato era proprio durante questa cena a casa e poi dopo cena come di suo solito si andava in chiudere in camera a fare le sue ricerche sugli extraterrestri pur a stare semplicemente su internet oltre che le pareti aveva anche 14 manoscritti numerati numeri romani e da quel giorno anzi da quella notte scomparve ha detto poi al padre l'ultima volta vado a fare la mia missione era successo che avevano intervistato i genitori e anche la sorella dicevano che loro l'ultima volta che avevano visto era durante la cena poi la sorella disse che di suo uso era quello di in chiudersi dentro camera dentro la camera e lei non doveva entrare perché ovviamente era una persona adulta e le persone adulte hanno bisogno di una privacy e quindi non poteva essere sempre bersagliato dalla famiglia ci sono varie ipotesi su bruno borges alcuni dicono che era stato rapito dagli alieni altri dicono che era stato rapito invece dagli illuminati dal nuovo ordine mondiale comunque qualcuno l'avrà rapito qualcuno l'avrà preso o lui se ne sarà scappato da qualche passaggio segreto di casa sua il fatto che nei telegiornali nessuno ne parla forse è meglio così perché può darsi che lui non voglia sentirsi parlare di sé quindi è meglio per privacy sì che certe cose per rispetto alla persona non vengono dette ma anche per il fatto che su internet se ne parla spesso di bruno borges ma nei video italiani tra gli youtubers italiani io sono il primo che ha parlato di questo personaggio poi altre teorie dicono che bruno borges assomigliava dei tratti del viso al suo idolo frate dominicano e filosofo italiano giordano bruno i tratti del viso erano simili lo aveva detto anche il suo migliore amico che era lo stesso che aveva fatto la statua di giordano bruno a grandezza naturale che sia stato rapito dagli alieni o che sia stato ucciso da da un'associazione segreta ben organizzata non si sa ancora comunque si sa solo che era scomparso nel nulla qualcosa sicuramente sarà successo forse se ne sarà andato lui sarà scappato lui per il fatto che voleva appartare a qualche zona segreta come ad esempio l'area 51 siccome era in brasile la per via terra si può andare anche verso il il nevada dove si trova l'area 51 forse qualche area segreta dalle vicinanze del brasile perché non è l'unica area segreta l'area 51 ci sono tante altre aree può darsi che lui sia stato lì sia stia lì a fare le sue ricerche nessuno può saperlo prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria o favola moderna bene cari amici con questo è tutto un abbraccio dal gran mitico pensate che questo può succedere anche a qualcuno di noi cosa ne sapete bene vi saluto vi voglio tutti bene ciao